Oggi andiamo a conoscere il 44enne Victor Glover. Nel video che andiamo a vedere del 27 febbraio 2021, Victor si trovava già nello spazio da circa tre mesi e mezzo e nel video dove viene intervistato dalla vicepresidente americana Kamala Harris ci regala qualcosa che sfata la pantomima che sta recitando senza nemmeno esserne consapevole. Vediamo la breve clip e poi analizziamo qualcosa di interessante. Puoi sentire? Puoi sentire? È bello vedere te, madame vicepresidente. Victor, è molto bello vedere te. Da questo video si capisce perfettamente che la vicepresidente sta facendo uno spot pubblicitario per Victor, il quale appare veramente in ottima forma per la sua età. Seguitemi per un momento. Nella descrizione del video trovate il link di questo documento della NASA dove si parla dell'atrofia dei muscoli. Praticamente si legge dell'abbattimento e del deterioramento dei muscoli quando non vengono usati. E nello spazio, a causa della mancanza di peso, tutti i muscoli smettono di lavorare oltre al fatto che l'endofina confinata all'interno dell'apparato vestibolare non può funzionare quando non può rimanere sul fondo, ma gli astronauti non ne risentono. Informatevi attraverso l'indice alfabetico di questo interessantissimo argomento sotto la voce, apparato vestibolare, ma gli astronauti non ne risentono. Torniamo al documento. Come dicevo, gli astronauti si trovano in un ambiente senza peso. Sulla stazione internazionale spaziale, come il nostro Victor. Senza annoiarvi andiamo a leggere solo i paragrafi alla fine. Anche se la massa di muscoli e la robustezza può essere recuperata una volta che l'astronauta torna a Terra, mantenere i muscoli nello spazio è una preoccupazione, specialmente per le missioni spaziali a lungo tempo. L'unico modo per minimizzare l'atrofia muscolare nello spazio è attraverso un esercizio intensivo, in particolare facendo esercizi di forza combinati con una dieta adeguata. Dieta adeguata, aggiungo io. E come? Nello spazio. Con la pizza nello spazio in compagnia di Paolo Nespoli? Gostatevi il video con la pizza che ha la gravità. L'ultimo paragrafo dice, gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale spendono due ore e mezza ogni giorno facendo esercizi per combattere l'atrofia muscolare. Ma ricordiamo il paragrafo precedente, è il solo modo per minimizzare l'atrofia. Per evitare il deterioramento dei muscoli attraverso gli esercizi per due ore e mezza al giorno. Di sicuro non riescono a mantenere la fisicità di muscoli, secondo la NASA. E invece Victor ha un fisico eccezionale, nonostante tutto. Forse fa cinque ore al giorno di esercizi? Ecco quello che succede con i muscoli che si deteriorano nel tempo, quando non vengono usati. Esattamente come quello che accade in un ambiente con mancanza di peso. Non voglio con questo contestare gli esercizi, ma pensate a quanto tempo deve dedicare Victor per rimanere in forma con i suoi esercizi, per apparire come nel video intervista. Questa è la fotografia di Victor insieme ai suoi colleghi prima di partire per la missione sulla stazione internazionale spaziale. E qui è sulla stazione spaziale dopo tre mesi e mezzo. Ricordate che quando si è nella metà della quarantina, 44 anni come ha Victor, non è assolutamente facile mantenere la fisicità muscolare. Richiede disciplina, una disciplina incredibile, una dieta eccellente e duri allenamenti. Invece è veramente strano perché Victor sembra più vispo che mai, sano, robusto, più di quando è partito nonostante si trovi nello spazio anziché deteriorarsi. Ricordate che in mancanza di peso non si possono eseguire esercizi come la sbarra, tanto per fare un esempio, o il sollevamento pesi. Pensateci gente, sembra che per raccontarci le favole dello spazio non scelgono persone che dovrebbero affievolirsi a livello muscolare, ma al contrario scelgono attori che diventano sempre più muscolosi e più robusti. Non è che Victor sta giocando per la pantomima di una sua futura candidatura politica miscelata con la pantomima eliocentrista? Non mi sembra che queste persone riescano a fornire le loro storie correttamente. E sapete perché? Perché non possono. Ma le amebe ormai lobotomizzate credono a tutto, senza essere più in grado di analizzare. Esattamente come succede nei film attuali dove sempre più spesso si osservano scene che non accadono e non possono accadere nella realtà. Smettete di sognare e tenete i piedi saldi sul nostro meraviglioso Regno Piano. Grazie.